Presentiamo una macchina meccanica, totalmente meccanica, di nuova generazione per la produzione di capsule dolce gusto. Quella che vedete è una macchina che produce 200 capsule, completamente in azoto, quindi in atmosfera modificata, con il controllo del peso e con tutta una serie di verifiche, incluse le telecamere per il posizionamento del film. E questa è una macchina totalmente meccanica. Cosa vuol dire totalmente meccanica? Vuol dire che un solo motore elettrico genera tutti i movimenti macchina e questo significa che anche in termini di costo energetico praticamente si possono produrre 20.000 capsule come queste al costo di un espresso. Questo è quanto possiamo fare oggi con una macchina di generazione totalmente meccanica.